Ciao, io sono Antonio e come ogni settimana nuovo video a tema Wizarding World. Questa volta vi parlerò di un volume che vi avevo mostrato in un unboxing prima di Natale e che vi aveva letteralmente mandato fuori di testa, perché tantissimi l'avete acquistato, me l'avete detto in privato, ma molti altri stanno aspettando la recensione da tanto tempo, quindi finalmente eccomi qui per farla. Ma prima di cominciare vi ricordo che in infobox trovate il link per acquistare questo libro su Amazon ad un prezzo scontato e naturalmente vi ricordo anche che qualora voleste acquistare delle magliette a tema NERT come quella che indosso, che è a tema Harry Potter, ma ne trovate anche di molti altri fandom, potete farlo su Pampling, dove utilizzando il codice sconto 7Potter avrete il 15% di sconto a vita, potrete utilizzarlo sempre su tutti i vostri acquisti, senza minimo di spesa, quindi ragazzi dateci dentro. Bene, detto questo, ecco qui il volume in questione. Si tratta di The Heart of Harry Potter, mini book of graphic design. Si tratta di un libro cartonato, rilegato in copertina rigida, quindi di una bellezza, ragazzi, sconcertante. Io ero molto molto dubbioso prima di acquistarlo, ho aspettato tantissimo e non riuscivo a capire di cosa si trattasse, ma alla fine, avendolo tra le mani e avendolo letto tutto, devo dirvi che ve lo consiglio caldamente, vale ogni euro di quello che costa, perché costa anche relativamente poco, circa 10 euro, ma voi direte, sì, ma così piccolo, sì ragazzi, così piccolo, ma uno dei migliori volumi dedicati alle arti di Harry Potter, perché è un volume curato da Mina Lima, che è il duo di grafici che si è occupato di tutti i film di Harry Potter e anche di Animali Fantastici, e che da poco hanno anche aperto un negozio a Londra, vicino a Covent Garden, che spero di visitare al più presto, e ragazzi, qui sono rechiusi tutti i lavori grafici dedicati alla saga. Questo volume è di circa 300 pagine, anzi, credo siano proprio 300 pagine, ed è edito da Insight Edition. Non esiste in italiano, non è stato ancora tradotto da nessuno, ma ragazzi, i testi sono molto molto chiari, vanno comunque a descrivere le immagini, ma la bellezza di questo volume sta proprio nelle immagini, nella qualità altissima, della risoluzione altissima delle immagini contenute in questo volume, nonostante sia così piccolino, il che è anche un bene, perché ne abbiamo davvero di enormi, quindi ogni tanto un volume contenuto fa anche bene. Questo volume è diviso al suo interno in diverse sezioni, che adesso vi vado ad elencare. C'è una prima introduzione, che è solo testo, poi abbiamo una sezione dedicata a tutte le varie tipologie di testi scolastici, che sono stati presentati durante l'arco di tutti i vari film. Sono davvero tanti, ci sono tantissime copertine, si va da quella dedicata al libro del Principe Mezzosangue, a Storia della Magia, a Storia di Hogwarts, c'è davvero di tutto di più, libri sulle rune, sulla ritmanzia, sulla divinazione, volumi che magari erano stati realizzati, e che non hanno trovato poi spazio all'interno dei film, ma che troviamo ad esempio esposti al Warner Bros Studio Tour, o comunque che troviamo in giro per la rete, perché i prodotti grafici erano già stati realizzati e stampati, e poi magari messi da parte in archivio. Poi, passando oltre, troviamo anche un'intera sezione dedicata alle pozioni, e agli ingredienti per realizzare queste pozioni, che è una sezione anche abbastanza corposa. Poi troviamo anche un'altra sezione dedicata ai giornali magici, e questa anche molto corposa, come ad esempio la Gazzetta del Profeta, il Cavillo, ne abbiamo tantissimi di questi esempi, e poi invece abbiamo anche un'altra sezione dedicata ai documenti scolastici, come le proclamazioni, i decreti della professoressa Umbridge, i regolamenti scolastici, i quiz, i permessi per le gite, tutto quello che era stato realizzato, e che era stato utilizzato all'interno della scuola di Hogwarts. Poi si passa ad una sezione interamente dedicata al Ministero della Magia, ma anche qui decreti, leggi, proclamazioni del Ministero, troviamo anche documenti magici, davvero tantissima, tantissima roba, tutti i vari sigilli del Ministero, e di tutte le varie sezioni del Ministero, davvero molto molto interessante e dettagliato. Poi si passa ai blueprint, che sarebbero i progetti, le carte dove sono stati progettati tutti i vari edifici, e anche tutte le varie zone comuni del Wizarding World, come palazzi, come uffici pubblici, le scuole, tutti i vari progetti. Una volta esaurita anche questa sezione, ecco che passiamo a quella dedicata all'araldica, all'araldica che è molto importante all'interno di Harry Potter, e troviamo diversi stemmi, sia quelli della scuola, quindi quelli classici di Tassorosso, Corbonero, di Grifondoro e Serpeverde, ma anche i vari stemmi, come ad esempio quelli della famiglia Malfoy, come quello della famiglia Black, gli Arazzi, abbiamo davvero tantissima araldica all'interno della saga di Harry Potter. Poi si passa allo sport, si passa al Quidditch, ma dopo il Quidditch si passa anche alle cose da bere, al cibo, quindi tutti gli incarti, tutte le bottiglie, tutti i dolciumi presenti all'interno del mondo di Harry Potter, che sono stati appunto disegnati, realizzate, tutte le grafiche, gli incarti dal duo Mina Lima, come vi ho già mostrato nel video precedente, dove vi ho parlato del volume dedicato a Mielandia. E poi abbiamo anche una sezione dedicata ai Tiri Vispi Weasley, lì ovviamente, anche lì scaffali, scaffali di prodotti interamente realizzati da Mina Lima, tutte le scatole, gli incarti, le confezioni, le bocce, le bottigliette, tutto ragazzi, tutto, Mina Lima ha realizzato qualsiasi oggetto presente all'interno della saga di Harry Potter. Sono stati davvero bravissimi, e mi dispiace che non abbiano mai vinto un Oscar per questo motivo, perché secondo me se lo sarebbero stra stra meritato. E infine, nella parte finale di questo volume, che come avete visto contiene davvero tantissime cose, ecco che troviamo altre due sezioni. Una che è dedicata alle insegne del mondo magico, quindi le insegne dei negozi, si va da Ollivander a Mielandia, si va a Magiesinister, tutti, tutti i negozi che sono stati citati all'interno del mondo magico, che sono davvero tantissimi, alcuni li troviamo fisicamente realizzati anche all'interno dei parchi divertimenti di Harry Potter, e poi tutta un'altra sezione dedicata ai poster. Voi direte quali poster? Beh, uno su tutti, quello dell'indesiderato numero uno, o ad esempio quello del Wanted, famosissimo di Sirius Black animato, quello, ragazzi, è uno dei poster più famosi dell'intera saga. Io, durante questa spiegazione, vi ho mostrato qualche immagine, non vi ho fatto un video dove sfogliavo pagina per pagina questo volume, in primis perché comunque non avrebbe reso benissimo, visto che è abbastanza piccolo, e sarebbe stato difficoltoso inquadrarvi pagina per pagina, ma anche perché non voglio spoilerarvi per intero tutto il libro, che è davvero lungo, 300 pagine, avrebbe semplicemente appesantito il video, e sarebbe stato anche molto molto ripetitivo. Invece vi ho mostrato qualche contenuto, qualche chicca, e poi, qualora foste interessati, ragazzi, spendete questi 10 euro per questo libro, portatevelo a casa, e godetevelo fisicamente, perché sì, il digitale è bello, ma il cartaceo, ancora oggi, secondo me, vince su tutto, e restituisce emozioni sicuramente molto più belle e intense rispetto al digitale. Bene ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate di questo volume, che sta nel palmo di una mano, che potete tranquillamente portare con voi ovunque, quindi, io spero che escano in futuro altri libri di questa qualità e di questa dimensione, perché sono leggibili, comodi, si riescono a conservare tranquillamente, anche in grande quantità, secondo me, sono molto molto interessanti, quindi, complimenti a MinaLima, complimenti a Insight Edition, e ragazzi, vi ricordo, link in infobox. Detto questo, fatemi sapere sotto nei commenti, cosa ne pensate, lasciate un mi piace, commentate, condividete il video con i vostri amici, aiutatemi a crescere, ragazzi, il vostro supporto è importantissimo, e naturalmente, seguitemi anche su Instagram, mi trovate come Antonio.seria. Detto questo, la smetto di blaterare, e noi ci vediamo, prestissimo con tante altre novità. Ciao!